Il video più bello, Jelena Ribachina sul due metri di gambe sul tetto del mondo, non ha nulla di Kazakistan signori, è nata in Russia, è nata precisamente a Mosca, nella capitale del mondo conosciuto, ma sai il problema qual è? Vedi che Jelena Ribachina va in finale e vincerà Wimbledon perché è di gran lunga la tenista più forte al mondo, con la bandiera Kazaka che è solamente uno specchietto per le lodole, lei è pienamente russa, è nata a Mosca, nella capitale del mondo conosciuto. Il problema, vedi, è che la Russia è molto invidiata, di solito si invidiano i vincenti, non i perdenti, se no la Russia ha scritto la storia del tennis, un altro ragazzo che è stato escluso in maniera indegna e infame da Wimbledon è il primo numero uno al mondo, però stavolta è molto più divertente la cosa, vincerà davanti agli occhi di un premier dell'esittimato, la Russia andrà sul tetto del mondo di nuovo e Putin se la gode. Grazie